Insieme a Bari, Bitonto, Cagliari e Matera, anche a Caltanissetta è stato avviato il progetto Custodi del Bello, per contrastare la marginazione e la povertà con il lavoro. In queste città nei prossimi mesi oltre 200 persone che vivono in difficoltà saranno inserite in percorsi formativi e lavorativi, dove si prenderanno cura di strade, ville, monumenti, scuole e piazze nel renderli più belli e vivibili. Oggi per noi è una giornata importante, Custodi del Bello significa prendersi cura e amare la propria città. Noi lo facciamo in una maniera innovativa, includendo in questo progetto le tante persone che oggi hanno difficoltà a portare avanti la propria vita. Per noi è un momento importante, siamo la prima città nel sud Italia che parte con questo progetto, già la troviamo al nord, Milano, Roma, Firenze, in tanti capoluoghi di provincia. La nostra piccola Caltanissetta è una città che ancora una volta si vuole scommettere e scommettere che la bellezza e il bene possono andare a braccetto. Il progetto è iniziato l'altro ieri, due giorni fa. Oggi è l'inizio, è un momento importante e siamo certi che la comunità intera apprezzerà questo nuovo modo di operare e apprezzerà tanto le persone che saranno in giro a custodire la bellezza della nostra città. Questo progetto viene fatto naturalmente dalla Caritas insieme al comune di Caltanissetta. Sono tanti gli enti che ci stanno aiutando, speriamo che siano anche tanti cittadini che possano aiutarci in questo creando un nuovo modo di fare bene, un nuovo modo di approcciarsi alla città e anche un nuovo modo di viverla. Grazie.